In una giornata nella quale ci siamo concentrati molto di più sul tennis, almeno per chi è appassionato di tennis, sport in generale, non so se voi che guardate i video sugli sport invenali, in particolare sullo sci alpino, siete appassionati anche di altri sport, in particolare il tennis. Perché la finale di Sinner contro Medvedev ha gli Australian Open, Sinner vince ovviamente quindi ci regala una gioia immensa, era in contemporanea in pratica con le gare di sci alpino. Quindi a Garmisch il Super G maschile, dopo che c'era stato ovviamente l'altro Super G di ieri, insomma con il secondo posto di Guglielmo Bosca, e Cortina il Super G dopo le due discese un po' strane, sfortunata, la nostra goggia ieri, ricordiamo no, a Cortina. Oggi il Super G. Quindi che dire, partiamo subito, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, non nego che mi sono concentrato molto di più su Yannick, su Sinner in realtà, per forza di cose. Però comunque almeno la gara femminile di Cortina l'ho vista maggiormente, ora mi sono recuperato un po' quella maschile di Garmisch, e partiamo proprio da questa. Garmisch, Super G maschile, vince Odermatt. Comunque la vittoria di Schladming, di qualche giorno fa, in slalom gigante e notturna di Odermatt, rimontando da undicesimo, era undicesimo dopo la prima manche, a primo, era stata secondo me una vittoria da circoletto rosso, ma più che altro perché infligge un colpo pesantissimo a tutti quanti gli altri, a livello morale. A livello morale. Questa è un'altra gara che per la Coppa di Specialità ha un peso specifico importante, perché tra Odermatt e Crickmeier, insomma, si sono inseriti in due, Aser e Von Almen. E poi Sarrazen è comunque uscito, quindi non ha finito la gara, e quindi Odermatt, diciamo, ristabilisce un po' le gerarchie, qualora ce ne fosse bisogno. Ecco, visto comunque anche la gara un po' particolare di ieri, con la vittoria di Allegri, insomma, sicuramente non avrebbe voluto andare via da Garmisch, dalla località tedesca, senza una vittoria. E' il più forte, è il più forte, anche se sul podio Raphael Aser e, soprattutto, Franjo, non so se si lega così, o Franco, non lo so, Von Almen, altro svizzero, del 2001 a 61 centesimi, il primo podio in carriera, alla undicesima, dodicesima gara. Cioè, pazzesco. Quindi, quarto, Crickmeier a 64, quinto Crawford, sesto Seierstedt, settimo, altro, svizzero, giovane, Boassé, abbiamo nominato più e più volte nelle settimane, nei giorni scorsi, nei video scorsi. Attenzione a questi due, cioè, si vedeva che erano comunque due che avevano cominciato ad ottenere degli ottimi risultati, e ora il primo podio di Von Almen, un'altra top ten per Boassé, quindi settimo posto, insomma, niente male. Stessa cosa per quanto riguarda Babinski, comunque, austriaco, ottavo, ottavo posto, poi Radamus, ottavo a pari merito, lo statunitense, collo con l'austriaco, e poi decimo, altro statunitense, Cochrane Seagull. Mattia Cassi, undicesimo, il migliore degli italiani, Paris, sedicesimo, Guglielmo Bosca, comunque, una buona top ten dopo il secondo posto di ieri, avevamo detto, era super difficile ripetersi, comunque, oggi condizioni anche un po' diverse, credo abbia fatto anche un po' di neve, insomma, nella notte, quindi, ovviamente, condizioni un po' diverse, però, comunque, un'altra buona prestazione per Bosca, alla fine, cioè, un secondo e 33, alla fine, dal vincitore Odermatt. Un'indiciottesima posizione, poi, Meillard, e via via tutti gli altri, fino ad arrivare a Borsotti, ventiduesimo, Inerofer, e Franzoni. Franzoni, ventiseiesimo, è partito col 58, lo vado a vedere subito, ma, sì, col 58, e arriva, e va comunque a punti, quindi, una gran bella prestazione per lui, nulla da dire. Ma, tornando un attimo al podio, oltre ad Odermatt, Rafael Aser è il secondo podio, stagionale, e altro secondo posto dopo che l'avevo ottenuto, sempre in un Super G, ora mi sfugge quale, ma, comunque, in questa stagione, un altro secondo posto in Super G. Comunque, grande, Rafael Aser, che alla fine chiude a tre decimi, soltanto da Odermatt, e Von Almen, ripeto, undicesima, barra dodicesima gara, ora non ricordo, in Coppa del Mondo, classe del 2001, terzo posto, terzo posto, primo podio, ma come scia, poi, ok, ben consigliato dalla squadra, soprattutto da Odermatt, che, subito, appena dopo essere sceso, lì, sul trono del leader, no? Chiamiamolo così, subito a comunicare col walkie-talkie, con la radiolina, in cima, le traiettorie, le cose, eccetera, le cose da fare, come la pista, e quant'altro, quindi, bravissimo Von Almen, e non è un caso che uno, dopo una decina di gare, Super G, arrivi a podio, cioè, non è un podio sporadico, così, una gara pazza, insomma, ha già ottenuto dei piazzamenti, dei buoni piazzamenti, insomma, in gare passate, nelle scorse settimane, eccetera, quindi, bravissimo, e ripeto, questi due, Aser e Von Almen, si mettono fra Odermatt e Krikmaier, e quindi, comunque, Krikmaier, avrebbe potuto guadagnare, magari, ecco, 40 punti in più, invece, ne guadagna 40 in meno, e quindi, bene per Odermatt, niente da dire, per quanto riguarda gli italiani, migliora prestazione di casse, devo dire la verità, non ho visto le prestazioni degli italiani, non so, non so cosa abbiano fatto, a livello di squadra, anche oggi, un po' meno bene, rispetto ad altre occasioni, però, magari, sono degli alti e bassi, insomma, ci, ci può anche stare, diciamo che, che mi ha contento del secondo posto di Bosca di ieri, che mi ha fatto gioire, e gioisco ancora oggi, per quello che è riuscito a fare, certo, andiamo a prendere la gara odierna, a livello di squadra, non proprio benissimo, nemmeno una top ten, anche se i distacchi sono comunque tutti compressi, cioè, alla fine, Kass è undicesimo, ma a poco più di un secondo da Odermatt primo, e quindi a poco più di quattro decimi dal podio, alla fine, quindi meno di mezzo secondo, i distacchi molto compressi, quindi, questo è, per quanto riguarda gli uomini, un rapido commento, per quanto riguarda le donne, invece, Cortina, Super G, ovviamente, vince la Ragut, ieri, avevo detto nel video, per me, è la favorita, comunque, una delle primissime, infatti, insomma, è, cioè, comunque, ok, Stefani, Venier, dopo, la mette in difficoltà successivamente, perché la Venier è molto in forma, ma le traiettorie di Gutt, soprattutto, lì, il tratto dello Scarpa Don, se non erro, comunque, dove ci sono tutti quei dossi, veramente, spettacolare, ma non fa quasi una sbavatura, cioè, non fa un errore, ecco, magari ha un po' meno velocità, forse, rispetto alla, all'Austria, che magari è un po' meno, è un po' meno precisa, un po' meno perfetta, in alcune situazioni, ma recupera un po' tra il materiale, la velocità, eccetera, ma la Ragut, cioè, non ha praticamente sbagliato nulla, cioè, io, poi, non sono un espertissimo di Sporting Manali e DC, però, cioè, già, solamente guardandola, è, proprio, perfetto quasi, perché, poi, se la compare alle prestazioni, ad esempio, di Goggia, di Brignone, che hanno sbagliato, di Bassino, ovviamente, che perde un po', anche se, cioè, nel tratto finale, non, non perde troppo, non perde troppo, però, non ricordo nemmeno dove abbia sbagliato, in quale punto, però, se compare la prestazione della Gutt, con le italiane, ti accorgi subito del, della sciata peggiore, no, delle nostre, purtroppo, comunque, grande, la Ragut, nulla da dire, seconda, l'Avenir, che continua il suo periodo molto positivo, dopo la vittoria, no, dell'altro ieri, praticamente, nella prima discesa, e, eh, Miradoli, terza posizione, per la francese, cioè, lei, a rientro, ieri, top ten, se non fate errato, oggi, comunque, eh, podio, terzo posto, quindi, niente male, a 41 centesimi, Movincale, la vincitrice di ieri, a 53, poi, Sofia Goggia, Marta Bassino, in quinta, in stessa posizione, a 58, e a 75 centesimi, rispettivamente, poi, Miriam Puckner, l'altra che sta facendo molto bene, Austriaca, solo che fa un errore abbastanza grossolano, se non ricordo male, quindi, insomma, la sua cara viene compromessa, Alice Robinson, che ha, piettorale, numero 19, chiude ottava, a 1,11, Brignone, ad 1,30, arrabbiatissima, pure oggi è un periodo un po' così, eh, in nonna posizione, e Kira Weidel chiude in decima, Laura Pirovano, ad 1,35, in dodicesima, fa un po' da cavia, come è stato detto anche in TV, in telecronaca, per le altre italiane, e per le altre in generale, perché, tre discese, praticamente, sempre da prima, è scesa, l'altro ieri, non era partita, comunque, l'Edezca, che non è partita nemmeno oggi, tra l'altro, quindi, avrebbe avuto il pettorale numero 1, e quindi parte via prima Pirovano, ieri, se non erro, o l'altro ieri, vabbè, non ricordo, insomma, con precisione, però, cade l'Edezca, ieri, sì, ieri, cade l'Edezca, o meglio, comunque, esce subito, praticamente, e quindi Pirovano, di fatto, è la prima a scendere, la prima che completa la discesa, la gara, quindi, fa un po' da cavia, purtroppo, però, venendo un attimo alle, alle italiane, Goggia, soprattutto, nell'ultima parte di gara, quella che gli evoca, magari, anche dei ricordi un po' più spiacevoli, infortunio, prima dell'Olimpiade, no, del, prima dell'Olimpiade, sì, 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 avevo un attimo un lapsus, comunque, infortunio, a cortina, proprio lì, sullo Scarpadorn, sui dossi, e quindi, magari, è un po' più tirata, un po' più tesa, lo sci che sbatte un po' di più, ecco, la comparazione, no, che dicevo, con Gut, cioè, Gut va via liscia, invece, gli sci della Goggia sbattono, comunque, di più, cioè, questo è quello che, che, di cui mi sono accorto, e quindi, peccato, comunque, giù dal podio, però, è stata la migliore, ovviamente, delle azzure, in questa, in questo, in questo weekend, due terzi posti, e poi, ieri, abbastanza sfortunata, insomma, l'altro ieri, per altre ragioni, comunque terza, e quindi, dai, la migliore del weekend, però, oggi, niente podio, sesto posto, per Marta Bassino, a 75 centesimi, anche, un sesto posto, nel momento in cui è l'Abbassino, è da prendere, veramente, come una cosa positiva, un qualcosa, un qualcosa di positivo, quindi, bene è così, visto il momento dell'Abbassino, bene è così, è ovvio, che lei vorrebbe, ritrovarsi sul podio, avere la bacchetta magica in mano, schioccare le dita, e, ok, ho vinto, vittoria, secondo posto, comunque podio, è ovvio, che, vorrebbe questo, però, non va nemmeno male, cioè, step by step, passo dopo passo, non si può nemmeno, pretendere, insomma, che se sei in un periodo o no, poi, nel giro di una giornata, ti scatti la molla, e quindi, cioè, non so, non so, trovi il feeling, il setup, il materiale, eccetera, tutto quanto, e quindi, vai a fare subito podio, quindi, per me va bene, questo, questo sesto posto, poi, Brignone, è quella, un po' più in difficoltà, in quest'ultimo periodo, a 1,30 dalla vincitrice Gutt, ma, ok, cioè, è una partita molto bene all'inizio stagione, poi, è un periodo un po' di flessione che ci sta, cioè, ci sono i picchi di forma, poi, un po' di calo, eccetera, però, ovviamente, cioè, sarebbe un peccato, per forza di cose, arrivare fino a, più o meno, fine stagione, quindi, marzo, con questa condizione, cioè, ci sarebbero un bel po', no, di occasioni sprecate, quindi, speriamo già, da dopodomani, il super, il, scusate, il, lo slalom gigante di Plan de Corones, speriamo che si possa risollevare, insomma, e che possa rientrare un po' in carreggiata, no, perché, ripeto, sarebbe, comunque, un, un gran peccato, se, avesse una flessione troppo, troppo prolungata, no, nelle, nelle prestazioni, invece, dai, forza Brignone, lei è molto, molto, molto esigente con se stessa, arrabbiatissima, ha urlato comunque qualcosa appena è scesa, non ho capito cosa, ma, sicuro, ce l'aveva con se stessa, arrabbiatissima, quindi, dai, forza Federica, e, poi, vabbè, di Pirovano, in breve, ho parlato, una menzione su, cioè, nei confronti di qualcun'altra atleta, Musaferia, Bosnia-Herzegovina, quattordicesima, quattordicesima, e aveva pettorale numero, ve lo vado a vedere, ma sicuramente molto alto, 46, e chiude in quattordicesima, posizione top 15 ad 1,83, bravissima, e poi, menzione per Vicky Bernardi, italiana, che è partita col 50, e ha chiuso, per la seconda volta in Coppa del Mondo in carriera, a punti, diciottesimo posto, a 2,29 da Lara Gut, questa ragazza, Vicky Bernardi, appunto, aveva ottenuto già i primi punti in Coppa del Mondo, a meno che, ecco, cioè, non mi sia, non mi sia perso qualcosa, però, in una discesa libera, ad Altermarkt, il 13 gennaio, arrivò ventottesima. Ora, ovviamente, credo che questo sia, anzi, togliamo il credo, la migliore prestazione, no, a meno che, ripeto, non mi sono perso qualcosa, ma, credo proprio di no, migliore prestazione in carriera, fino ad ora, in Coppa del Mondo. E, tra l'altro, può non essere un caso questo fatto qui, perché, pochi giorni fa, 3-4 giorni fa, aveva vinto il Super G di Coppa Europa, in una località francese, comunque, è arrivata prima, ha ottenuto vittoria, quindi, ora, 14esima, 18esima, scusate, in Coppa del Mondo, per nulla male, per nulla male, quindi, bravissima, e, tra l'altro, cioè, si mette dietro due come le sorelle del lago, che, per carità, non staranno facendo benissimo, assolutamente. Nicole del lago, vabbè, podio un po' di giorni fa, però, per quanto riguarda Nadia, è abbastanza calata a picco, quindi, ok, non saranno tra le migliori italiane le sorelle del lago, però, già che te le metti dietro, a livello di immagine, insomma, fa tanto. Mentre, colei che è arrivata seconda ieri, in una gara pazza, Jacqueline Wiles, statunitense, arriva a 33esima, oggi, e, considerando che è la terz'ultima, perché ne sono arrivate in 35 a traguardo, le altre tutte in tre, non sono partite, tutte le altre non hanno concluso la gara. Tra l'altro, aggiornamento su Joanna Ellen, che ieri aveva praticamente ottenuto, cioè, si era ritrovata nella stessa situazione di Corinne Suter dell'altro ieri, quindi, per frenare, sforza tantissimo sull'articolazione del ginocchio, e Suter si è rotta, crociato e collaterale, se non ricordo male, ed è stata operata. Joanna Ellen, crociato pure lei, si è fatta al crociato pure lei, quindi, questo è abbastanza sfortunato, insomma, le Svizzere, e quindi c'è la Ragutta, ovviamente, che è super campionessa, tiene i piedi della baracca, e c'è anche qualche altra atleta, comunque, tra le elvetiche, che può fare delle buone prestazioni, però, ovviamente, due infortuni, comunque, pesanti per la squadra svizzera. Quindi, questo è, ragazzi, non credo di essermi dimenticato altro, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, buonanotte a tutti, e... Forza Azzurri, al prossimo video, e se mi sono dimenticato qualcosa, come sempre, lo aggiungo nei commenti.